Buonasera a tutti, iniziamo intanto ci presentiamo così magari diamo piano piano modo ancora agli ultimi di entrare. Allora questo è un nuovo webinar dei soliti mensili che proponiamo con studi cognitivi in particolar modo webinar promossi dal Centro per i disturbi della personalità di Modena che è un servizio specialistico offerto da studi cognitivi per appunto per chi non lo sapesse studi cognitivi è una scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale quindi una scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR che ha diverse sedi in Italia sia al nord che al centro che è più nella parte del sud che ogni sede ha un centro clinico, un centro di ricerca e in alcune sedi da circa due anni sono inattivati dei centri più specializzati su alcune problematiche e come nel centro ad esempio di Milano c'è un'attenzione e un centro specialistico per i disturbi alimentari a Modena ci concentriamo e c'è una struttura, un percorso intensivo per quanto riguarda invece i disturbi della personalità disturbi che riguardano quindi la difficoltà a regolare come elemento, diciamo come dimensione portante centrale la regolazione emotiva. Ogni mese appunto preponiamo dei webinar, diciamo, gratuiti, aperti a tutti e in particolare quello di questa sera come facciamo ogni tanto, insomma almeno una volta all'anno è più rivolto a familiari di persone che possono avere queste problematiche per quanto riguarda la regolazione emotiva un po' un modo per far conoscere e sensibilizzare a questa problematica e un modo anche per evidenziare quali possono essere, diciamo, gli elementi su cui soffermarci che possono essere d'aiuto e io la dottoressa, io sono la dottoressa Brugnoni, Sandra, con me questa sera appunto c'è la dottoressa Gemelli entrambi siamo psicoterapeute che lavoriamo all'interno degli studi cognitivi ed entrambe, diciamo, lavoriamo all'interno di questo centro per i disturbi della personalità in particolar modo conduciamo appunto, oltre che il percorso individuale all'interno di questo centro anche ci occupiamo di alcune attività di gruppo e in particolar modo la dottoressa Gemelli conduce insieme alla dottoressa Fredi che stasera non è qui un gruppo proprio specifico per i familiari all'interno del nostro percorso e questa sera, diciamo, vogliamo sottolineare proprio questo aspetto all'interno, diciamo, appunto del nostro percorso e a partire dalla funzione, dall'importanza dell'ambiente appunto familiare come aiuto, come sostegno, come supporto, diciamo, a chi ha queste problematiche quindi adesso presentiamo, insomma, il nostro intervento di questa sera e quindi poi, diciamo, al termine più che disponibili per qualsiasi domanda, approfondamento, riflessioni o discussioni che possono emergere quindi iniziamo e grazie a tutti per l'attenzione e per esservi collegati, insomma Buonasera a tutti, intanto condivido lo schermo come diceva Alessandra, io sono Antonella Gemelli sono anch'io qui una psicologa, psicoterapeuta e appunto all'interno del centro mi occupo anche di quello che è il trattamento e i contatti, insomma, con i familiari perché ogni anno, ogni tanto, insomma, proponiamo anche questo tipo di intervento perché secondo noi, al di là, insomma, delle persone che stanno male quindi presentano problematiche di regolazione emotiva questo lo vedremo, di scontrollo del comportamento altri tipi di problematiche che appunto determinano sofferenza per chi ne soffre non ci dobbiamo dimenticare, insomma, il carico e l'impegno che questo ha anche per i cosiddetti caregiver quindi per chi se ne occupa e per questo motivo è un po' l'intervento di stasera proprio questo tipo di obiettivo, insomma mettere in luce anche, come dire, l'altra parte che è estremamente importante secondo noi ed è importante sia perché appunto va considerata e perché appunto deve farsi carico anche di difficoltà che spesso non comprende, difficoltà che appunto fatica a gestire con tutte le più buone intenzioni ovviamente perché quando si parla di figli, compagni, compagne insomma e parenti è chiaro che anche da parte nostra c'è un coinvolgimento emotivo ma anche perché, come dire, noi riteniamo che i familiari in questo tipo di difficoltà siano un elemento molto importante e che nel momento in cui c'è la possibilità di dare strumenti al contesto questo fa sì che sia il contesto possa in qualche modo riuscire a gestire le situazioni di crisi e problematiche senza essere troppo sovraccaricato ma allo stesso tempo possa essere effettivamente d'aiuto e di sostegno per chi soffre chi ha difficoltà a regolare le emozioni noi cosa intendiamo per regolazione emotiva? intendiamo quella consapevolezza la capacità di comprendere e essere consapevoli delle proprie emozioni così come il poterle accettare riuscire ad accettarle e allo stesso tempo la capacità di controllare le emozioni negative e di riuscire ad agire in base alle proprie emozioni ai propri obiettivi anche quando, come dire, si è in preda ad emozioni estremamente negative quindi, come dire, in qualche modo anche a fronte di emozioni estremamente negative permane una capacità di utilizzare delle strategie di regolazione che necessitano di essere per forza flessibili e di adattarsi al contesto il modello di riferimento quindi a cui ci rifacciamo e anche, insomma, un po' l'approccio che vedremo di riferimento al modello fa riferimento al modello biosociale da questo punto di vista e il modello biosociale prende in considerazione due fattori importantissimi che vi renderete conto essere quindi proprio in questo senso sia nel nostro percorso sia il paziente quindi il paziente che porta dei fattori temperamentali che presenta quindi già a livello temperamentale un'elevata vulnerabilità emotiva ma allo stesso tempo l'altro fattore estremamente importante quando si parla di regolazione sono i fattori ambientali che nel momento in cui non riescono ad accogliere o hanno un approccio cosiddetto invalidante rispetto all'esperienza emotiva fa sì che appunto come mix con la vulnerabilità emotiva determini una difficoltà a regolare le emozioni con tutti gli elementi insomma che poi vedremo quindi già come dire a partire da questo modello si evince come appunto i protagonisti insomma i partecipanti siano entrambi sia chi ne soffre sia chi si occupa e fa parte quindi del contesto all'interno del quale si vive quindi l'insieme la vulnerabilità emotiva più come dire un ambiente che fa fatica per tanti motivi non dobbiamo pensare necessariamente a un ambiente maltrattante o un ambiente anzi no? cioè spesso come dire proprio per far fronte a questa vulnerabilità emotiva anche un ambiente che è adeguato tutto sommato no? nella gestione delle attività quotidiane ma perché ci si trova a lavorare tante ore al giorno perché ci si trova a gestire altri problemi della vita banalmente non riesce cioè tende ad ignorare tende a sottovalutare quello che invece è l'esperienza emotiva di questi di chi appunto ha questa vulnerabilità emotiva e quindi come esito questo no? come cosa vediamo nel momento in cui appunto la persona incontra no? si trova a vivere quest'ambiente portandosi dietro questa vulnerabilità come dicevamo prima di base fa fatica riconoscere identificare controllare adeguatamente le risposte emotive quindi e come dire nella difficoltà tenta di da una parte inibirle no? quindi far finta che non ci siano cercare di ipercontrollarsi così diciamo dall'altra parte no? però per un sistema di accumulo poi si passa a un'eccessiva intensità emotiva anche nell'espressione poi dei comportamenti inoltre sviluppa una altissima difficoltà a tollerare lo stress no? e a tollerare la frustrazione anche nel porsi delle aspettative degli obiettivi che spesso sono irrealistici questo perché? perché proprio questa difficoltà ad orientarsi in base alle emozioni quindi alle proprie emozioni ai propri pensieri fa sì che la persona tenda maggiormente a riferirsi all'esterno quindi a regolarsi attraverso l'esterno e in questo senso arriva a far fatica a cogliere quello che è la complessità del fenomeno emotivo e agisce nell'ambiente e agisce nell'ambiente basandosi secondo un modello molto limitato di stimolo e risposta l'osserviamo spesso questo nelle persone nelle persone che vengono al centro cioè nella loro percezione c'è un evento e poi c'è un comportamento non ha cioè come dire non riescono non hanno in mente che nel mezzo a fronte di qualcosa che a loro è capitato e al comportamento magari non adattivo che loro hanno messo messo in atto in mezzo c'è una valutazione e c'è un'emozione che loro hanno provato che sono proprio parte della difficoltà che loro hanno anche in una visione in una rigidità dal punto di vista cognitivo che si manifesta con un pensiero polarizzato di tutto bianco tutto nero quindi se hanno un amico è l'amico del cuore altrimenti non vale niente insomma o se devono raggiungere un obiettivo devono essere i migliori altrimenti è come se non avessero fatto nulla e fossero dei fallimenti quindi una rigidità che poi applicano sia a se stessi che agli altri proprio a fronte di una quindi mancanza di flessibilità che invece è quella che in qualche modo ci permette di adattarci alle varie situazioni sociali quindi nel tentativo di controllare e sopprimere le proprie emozioni dolorose sperimenta questa sorta di sensazione di essere fuori controllo e diventa emotivamente disregolato può presentare in certi casi e questo insomma spesso avviene quello che vediamo è la presenza quindi di impulsività che possono esserci in varie aree della vita può essere aggressiva o aggressivo verbalmente anche fisicamente possono usare alcol o droghe o avere un approccio disregolato nei confronti del cibo degli acquisti lo notate perché comunque come dire facilmente va verso una direzione di comportamenti che risultano palesemente discontrollati un altro esito è la difficoltà quindi anche nel processo decisionale proprio legato alla difficoltà al pensiero rigido come si diceva prima perché la difficoltà è muoversi in queste due categorie fortemente polarizzate ugualmente nelle relazioni quindi anche nelle relazioni proprio per questo motivo perché questi schemi vengono applicati in modo rigido sia a se stessi che agli altri spesso abbiamo una disregolazione anche dal punto di vista relazionale e caratteristiche di ipersensibilità ipervigilanza c'è una sensibilità c'è quasi un po' la percezione di essere fortemente sensibili a quello che succede intorno quindi questo per quello che riguarda appunto chi ha difficoltà di regolazione allo stesso tempo cosa succede i familiari i familiari stretti quindi partner genitori come esito di tutto questo che ho detto finora chiaramente spesso si sentono esausti e sconfitti perché magari si sono trovati ad affrontare per anni problematiche a cercare una spiegazione logica a qualcosa che apparentemente non è logico a comportamenti francamente illogici inoltre faticano a essere comprensivi e compassionevoli proprio perché l'estrema frustrazione di farsi carico di riuscire a gestire queste problematiche lascia con un forte senso di inefficacia nel tentativo e con tutte le più buone intenzioni come diciamo noi nel senso che ognuno fa del proprio meglio nel tentativo di dare consigli che però puntualmente non si sa perché vengono ignorati o fraintesi anzi quindi a fronte del consiglio anziché essere visto come un aiuto spesso viene visto come un episodio di invalidazione che determina appunto difficoltà relazionali anche all'interno della coppia dei nuclei familiari un'altra considerazione come dicevamo prima che purtroppo come esito proprio per queste situazioni perché spesso i rapporti tra questi pazienti o queste persone che soffrono e i loro familiari spesso sono conflittuali più spesso la scelta che viene fatta anche a livello terapeutico è quella di non coinvolgerli nel trattamento un po' nell'idea che escludiamo quello che viene erroneamente spesso visto come un problema per cui spesso secondo noi le famiglie i familiari sono delle risorse che non vengono utilizzate che invece possono essere utilizzate per rinforzare le abilità del paziente e che anzi nel momento in cui vengono lasciate fuori dal percorso rischiano appunto di continuare a mettere in atto dei comportamenti inefficaci che mantengono questo tipo di conflittualità e problematiche nel mostrarvi un po' quelli che sono più nello specifico queste caratteristiche l'abbiamo messa un po' sotto forma un po' come di test quindi un po' come dire se vi ritrovate in alcune di queste domande potete considerare il fatto di avere di fianco o conoscere magari qualcuno che ha difficoltà nella regolazione delle emozioni uno di questi è appunto il fatto di delle caratteristiche il fatto di sentirsi magari eternamente sotto stress perché il vostro familiare vi sconvolge la vita e vi causa infinite preoccupazioni oppure l'impressione che da un momento all'altro si passi dalla calma all'ira o alla disperazione più profonda quindi avete di fronte una persona che ha cambiamenti dell'umore così rapidi e appunto che vi lascia vi confonde vi induce a pensare che quello che avete visto insomma forse non è successo proprio perché non si riesce a dare una spiegazione logica e quindi proprio presenta delle difficoltà presenta quindi dei cambiamenti dell'umore talmente repentini a cui fate fatica a dare una lettura quindi in questo caso questi sono come dire quello che come appare ecco a chi assiste a una persona con disregolazione l'aspetto della labilità emotiva quindi questa difficoltà questa tendenza questa oscillazione dell'umore in pochissimo tempo un altro aspetto è appunto l'aspetto dell'impulsività quindi se avete l'impressione che il vostro familiare non ha il controllo delle sue emozioni o i suoi comportamenti vi procura continue preoccupazioni per la sua sicurezza quindi costantemente temete che possa succedergli qualcosa e quindi e come dire proprio perché lo vedete costantemente mettere in atto comportamenti pericolosi tra i comportamenti che chi ha difficoltà di regolazione appunto presenta un po' li abbiamo detti anche prima possono presentare anche uso di droghe uso di alcol anche autolesionismo perché in qualche modo l'autolesionismo viene usato come comportamento per regolare le emozioni così come appunto fino all'estremo nel tentativo di gestire degli stati emotivi negativi anche mettere in atto tentativi di suicidio quindi queste sono come dire in qualche modo come si manifesta proprio il tratto impulsivo che insieme all'abilità emotiva è un'altra importante caratteristica più legata all'aspetto cognitivo invece potreste avere l'impressione che il vostro familiare pur affermando di vivere in una quotidianità frustrante infelice stressante poi però lo vedete immobile e incapace di compiere qualunque tipo di cambiamento volto a migliorare la situazione tanto che come dire l'impressione che le decisioni di tutti i giorni sembrino veramente delle sfide enormi insomma insormontabili quindi da una parte la tendenza lamentarsi di questa infelicità ma dall'altra l'immobilismo e la difficoltà proprio di a scegliere e questo come dire potreste sperimentare in questo senso un vissuto di impotenza anche perché mentre l'osservate e questo anche per noi terapeuti insomma mentre prendono decisioni sbagliate una dopo l'altro e da un certo punto di vista nonostante ricadano sempre negli stessi errori sembrano incapaci di cogliere di imparare da questi errori o di cogliere appunto i collegamenti causa-effetto quindi proprio nella comprensione di capire dov'è che qualcosa non ha funzionato e quindi andare verso un cambiamento così come potete osservare le loro relazioni relazioni interpersonali che sono dei veri e propri campi minati da un certo punto di vista sono delle aree spesso per queste persone disastrate veramente sia nel senso che appunto in un mondo dove o ci sono le persone strette che gli sono vicine sono le persone più importanti della vita oppure tutto il resto viene facilmente eliminato e allontanato per cui una relazione che come dire un minuto prima poteva essere la relazione con quale un figlio una figlia insomma passava le ore al telefono improvvisamente la persona sparisce così come gli amori possono scomparire alla stessa velocità con cui sono apparsi e questa stessa modalità quindi divisione tutta bianca tutto nero quindi questa modalità dicotomica può averla anche nei vostri confronti quindi potete sperimentare o chiedervi alcune volte percepire quanto vi ami ma allo stesso tempo pochi giorni dopo avere dei comportamenti nei vostri confronti che rasentano veramente dei sentimenti di odio così come nelle relazioni spesso si presenta come una vittima quindi si considera l'eterna vittima dei comportamenti scorretti degli altri quindi con la tendenza a uno stile di attribuzione dei propri comportamenti rispetto agli altri quindi sono gli altri che non mi capiscono sono gli altri che dovrebbero già sapere questa cosa e per cui non ha senso che mi venga richiesta dovrebbe sapere che io sto male e quindi è inutile che mi venga chiesta questa cosa e così come un continuo appunto di frustrazioni e molte difficoltà appunto da un punto di vista relazionale un altro aspetto da tenere in considerazione questo forse come dire se avete avuto a che fare avete a che fare avete familiari o conoscenti con vulnerabilità emotiva vi sarete accorti già figli immagino vi sarete accorti già di una forte sensibilità probabilmente sin dall'infanzia erano molto sensibili anche agli umori i toni della voce al cibo molto selettivi alla luce quindi bambini bambine molto sensibili sensibili anche alle sfumature emotive degli altri molto sensibili a quello che succede intorno e in particolare un aspetto un aspetto di sensibilità è strettamente legato alla critica quindi molto sensibili alla percezione di una critica di un rimprovero e questa sensibilità può portare a una reazione molto forte che porta spesso ad isolarsi e evitare ogni tipo di interazione sociale proprio come comportamento messo in atto per tutelarsi e per regolare le proprie emozioni è inutile dire che come dire questo isolamento poi determina proprio a volta come dire aumenta questa percezione di rifiuto da parte degli altri e mantiene comunque questa caratteristica che si manifesta anche come non fiducia potete aver sperimentato un costante clima di tensione con la paura di aver detto aver fatto qualcosa di sbagliato un po' con la sensazione come si dice di camminare un po' sempre sulle uova cioè non si sa mai bene qual è la cosa giusta perché come si fa fa si sbaglia ok e quindi si fa fatica a essere spontanei proprio perché c'è timore rispetto alle azioni che possono poi essere messe in atto come appunto le azioni come fraintendimenti di quello che abbiamo voluto dire avete voluto dire sempre dal punto di vista della disregolazione cognitiva proprio per quest'aspetto di importante attivazione intensità e vulnerabilità quindi sensibilità nel percepire le emozioni queste oscillazioni repentine dell'umore potreste aver assistito a un vostro familiare a un conoscente che descriveva un avvenimento del passato e il suo ricordo non coincide proprio per niente col vostro stesso ricordo quindi non è un aspetto in questo senso delirante ecco nel vero senso della parola però gli aspetti di disregolazione emotiva determinano anche proprio un cambio nella percezione per cui possono ricordare frasi o comportamenti delle altre persone che in realtà voi non ricordate e tanto da poter differire effettivamente così tanto da quello che ricordano gli altri veramente a volte la percezione di aver assistito a qualcosa di diverso a un altro evento ma non non allo stesso non allo stesso evento la parte un'altra cosa estremamente interessante è che a fianco di queste caratteristiche peculiari insomma di chi ha difficoltà di regolare le emozioni quindi l'abilità emotiva l'impulsività il caos relazionale la disregolazione cognitiva l'ipersensibilità l'ipervigilanza c'è un aspetto in qualche modo opposto chiamiamolo così poi cercheremo di capirci che viene definito competenza apparente tutto quello che abbiamo descritto fino a ora quindi questi impulsi comportamenti disregolati difficoltà a scegliere a risolvere i problemi della vita a arrabbiarsi per qualcosa che non è chiaro quale sia stato il motivo in realtà possono avvenire all'interno del contesto familiare tuttavia possono essere estremamente in grado di controllare i propri comportamenti in situazioni pubbliche o in presenza di sconosciuti tanto che hanno questa capacità di apparire calmi e competenti quindi in grado di agire come se stessero bene quando sono fuori per cui mi viene in mente insomma vengono in mente dei familiari di una persona che è stata da noi che dicevano loro lo descrivevano appunto con tutte queste difficoltà con questi comportamenti pericolosi per se stesso e per gli altri e quando andavano a cena con amici i loro amici insomma dicevano ah ma guardate com'è bravo vostro figlio farai cambio col mio e i familiari erano esterrefatti come dire di fronte a queste affermazioni proprio perché nonostante come dire questa queste difficoltà riescono a mantenere un'alta funzionalità e competenza apparente appunto no tuttavia nonostante questa competenza apparente non riescono poi a raggiungere un alto grado di soddisfazione nella vita e quindi comunque no arrivano sempre ad esperire un vissuto di inadeguatezza di disperazione e di fallimento probabilmente questo questo aspetto è un po' ragionando anche insieme ai familiari quando siamo in gruppo insomma è veramente uno degli aspetti a volte più frustranti e sconcertanti di quelli che sono i disturbi legati alla regolazione delle emozioni perché fanno determinano in questo senso da una parte una difficoltà a riconoscere una vera e propria problematica proprio perché non ci si spiega com'è possibile che fino a due ore prima mentre era fuori riusciva a mantenere un comportamento estremamente adeguato e poi in casa si trasformi quasi in un'altra persona e quindi questo è molto sconcertante per le famiglie proprio perché è difficile accettare o credere che la persona stia veramente provando quell'estrema sofferenza emotiva quando lo vediamo di fronte agli altri con questa maschera di apparenza e quindi sì in questo senso è così come sconcertante vivere con qualcuno che in pubblico si comporta benissimo e assume delle condotte funzionalissime mentre in famiglia risulta estremamente irrazionale a volte anche molto violento questo un po' come dire ci aiuta ci permette anche di introdurre proprio perché in presenza di queste due facce quindi la competenza parente e le caratteristiche dall'altra parte che abbiamo visto prima diventa difficile essere un supporto e provare compassione nel senso di appunto stare vicino e aiutare il proprio familiare pur come dire cercando in tutti i modi e quindi provando affetto per per la persona però è molto non è facile no è più facile come dire avere degli atteggiamenti estremamente ambivalenti perché francamente quello che poi ti riportano le famiglie è che si sentono prese in giro spesso mi vengono i genitori di alcuni ragazzi dicono ma se riesci a farlo lì perché non riesci a farlo a casa perché è così bravo a fare quella cosa e poi di fronte e quindi insomma in qualche modo e questo diventa già un primo step con cui diventa importante anche perché chiaramente immaginate quello che succede nel momento in cui il contesto fa fatica a capire è sconcertato è stanco è frustrato e a un certo punto anche se come dire non è quello che si vorrebbe però si arriva anche ad alzare un po' le mani cioè ci si ci si chiede insomma in qualche modo ci si ci si arrende un po' a questa situazione dall'altra parte succede un po' la stessa cosa nel senso che il paziente arriva a rendersi conto che i propri comportamenti fanno male ai familiari alle persone care e arriva a gestire per questa difficoltà che ha di comunicare sentimenti pensieri i bisogni agli altri se non con delle modalità spesso disfunzionali e non comprensibili no perché quello che diciamo è un'altra cosa spesso è che hanno bisogno di aiuto ma lo chiedono male sostanzialmente quindi la loro sofferenza è reale però nel momento in cui una qualcuno come dire distrugge la casa o diventa estremamente violento non pone gli altri in una condizione di favorire il supporto l'aiuto ma porta gli altri ad allontanarsi e questo come dire porta un vero e proprio ad aumentare sempre di più quell'isolamento percepito di queste persone perché diventa talmente difficile soddisfare anche i più semplici bisogni perché si sperimenta costantemente non sentirsi capiti ma allo stesso tempo non hanno la capacità di spiegare esattamente cosa loro sta succedendo e quindi si mantiene questo costante senso di frustrazione questa percezione in qualche modo di essere invisibili di non contare nulla per gli altri di essere spesso anche un peso perché in realtà anche se come dire il vissuto può essere spesso appunto di sentirsi presi in giro in realtà c'è molta sofferenza nel momento in cui si sentono in colpa perché stanno costantemente mettendo in atto dei comportamenti dannosi e fanno soffrire gli altri quindi in qualche modo è proprio a partire da queste da questi concetti che si arriva a sviluppare a sviluppare il nostro intervento quindi prima di tutto questo diciamo che lo facciamo noi come terapeuti però è anche un po' sono dei presupposti che riteniamo essere estremamente importanti anche per chi appunto vuole essere un po' aiuto per il trattamento per persone care che hanno questo tipo di difficoltà dobbiamo come dire considerare alcuni assunti di base che se noi sono fondamentali e sui quali poi come dire costantemente modulare il nostro intervento il nostro supporto innanzitutto il fatto che le persone fanno del loro meglio quindi dobbiamo considerare il fatto che spesso anche se può non sembrarci vero però probabilmente è il massimo che in questo momento quella persona è in grado di darci e insieme a questo anche il fatto che vogliono migliorare la loro situazione dobbiamo considerare le persone che soffrono non sono persone che comunque se potessero scegliere non starebbero così e per stare meglio quindi hanno bisogno di stare meglio hanno bisogno di impegnarsi e di essere motivati a cambiare un altro assunto e questo come dire è un assunto che sicuramente noi condividiamo con i genitori ma condividiamo ugualmente con la persona che fa un trattamento di questo tipo è che loro possono anche non essere la causa dei loro problemi quindi un po' anche per bypassare quello stile che dicevo prima della tendenza a vedersi la vittima degli altri degli altri che non ci capiscono gli altri che sono stati cattivi in passato ci hanno deluso hanno ma l'idea è che anche se come dire non sono stati loro la causa dei loro problemi il punto è che devono comunque risolverli parliamo di persone pressoché adulte è vero che ci sono anche alcuni adolescenti però comunque insomma a 16 17 anni l'idea è che comunque devono non c'è modo nessun altro può sostituirsi a loro in questo e per fare questo quindi devono apprendere nuovi comportamenti in tutti i contesti che per loro risultano rilevanti e proprio su questa parte si basano i due modelli di riferimento le due terapie che all'interno appunto del centro si sono vengono in qualche modo applicati insomma i trattamenti applicati e sono la terapia dialettico comportamentale la terapia basata sulla mentalizzazione in particolare la terapia dialettico comportamentale si focalizza su come un individuo può imparare a regolare le emozioni e a mutare i propri comportamenti è una terapia appunto cognitivo comportamentale che attraverso l'insegnamento di skills specifiche poi questo lo descriverà anche meglio la dottoressa Brugnoni nella descrizione del centro mira proprio a portare a un cambiamento di questi comportamenti inefficaci allo stesso tempo la terapia basata sulla mentalizzazione invece è una terapia che si concentra su cosa una persona pensa e come percepisce la situazione durante l'interazione quindi momento per momento quindi la capacità in qualche modo di comprendere che l'altra persona ha un pensiero un'emozione diverso dai nostri e quindi questo ci può permettere di chiarire le intenzioni di ognuno all'interno della relazione e mantenere il contatto tra le persone l'aspetto comune di questi due tipi di terapia è che tutte si fondano sull'accettazione entrambe si fondano sul principio di accettazione e la compassione proprio inteso come si diceva prima non nell'accezione negativa del termine ma di comprendere e provare appunto a stare vicini anche emotivamente con persone che hanno difficoltà di regolazione emotiva proprio per questo come dire i due filoni i due pacchetti principali del nel nostro intervento sono proprio divisi tra interventi che vanno nella direzione dell'accettazione e interventi che vanno nella direzione del cambiamento quindi nella direzione dell'accettazione abbiamo appunto l'accettazione radicale l'intervento della validazione e la mindfulness mentre come dire altre abilità che vengono poi insegnate all'interno del gruppo per i familiari sono appunto e soprattutto nel gruppo dei pazienti tuttavia vengono anche condivise all'interno del gruppo per i familiari sono tutte delle abilità utili per cambiare il comportamento che si basano appunto su sia in termini di relazione interpersonale sia di regolazione emotiva e tolleranza della sofferenza quindi abilità specifiche che permettono di aiutare a gestire i momenti di crisi e i problemi insomma relazionali familiari così come la mentalizzazione che va nella direzione appunto di migliorare e comprendere meglio insomma di ridurre quelli che possono essere i fraintendimenti accettazione radicale come dice il termine significa proprio riconoscere nel più profondo di noi stessi ciò che è nel momento presente e riuscire a tollerarlo quindi implica per i familiari che vogliono in qualche modo avvicinarsi o essere d'aiuto per chi soffre il fatto di accettare la propria vita e quello che sta accadendo così com'è senza desiderare o far finta che sia diversa nell'idea che come dire l'accettazione che non è chiaramente l'esito finale è il primo passaggio è l'idea di guardare effettivamente le carte che si hanno in mano e anche se non ci piacciono però prendere atto che sono così ed è la base su cui appunto poi si arriva a poggiare la validazione e poi successivamente le abilità di cambiamento è chiaro che se noi non l'accettiamo una situazione non vorremmo il figlio che abbiamo vorremmo che fosse diverso non vorremmo il compagno o la compagna che abbiamo vorremmo che fosse diverso vengono a mancare poi dei presupposti su cui si poi basa tutto un percorso di appunto anche di cambiamento successivamente quindi significa accettare radicalmente la realtà accettare la vostra vita com'è in questo momento accettare il vostro familiare il vostro padre per quello che è nel momento presente quindi accettare che entrambi state facendo del vostro meglio per adesso e potete andargli incontro in questo momento ovunque si trovi accettare anche in qualche modo una sorta di lutto no? e che la vostra vita insomma o la vita dei vostri cari in questo momento è diversa da come si sperava che fosse però comunque di continuare a giocare questa partita cercando appunto di andare in una direzione di cambiamento e proprio in questo senso si colloca poi un'altra abilità che insegniamo nel gruppo dei familiari che è la validazione la validazione è come dire definita un linguaggio per comunicare col familiare è un linguaggio che utilizziamo anche noi terapeuti ovviamente e significa è proprio la capacità di legittimare un'altra persona accettandola attivamente per quella che è nel momento presente e trasmettendola un senso di accettazione significa dare valore in quel momento a quelle che sono le sue emozioni i suoi pensieri significa dare affetto ed è un potentissimo mezzo da utilizzare proprio per ridurre l'intensità emotiva in un certo momento e significa appunto andare nella direzione di un'accettazione incondizionata quindi sicuramente la validazione è il passaggio successivo dopo avere accettato in qualche modo e preso consapevolezza di quello di com'è la situazione di quello che sta succedendo sta succedendo a voi e al vostro familiare validazione può essere per capirci insomma la validazione può avere vari livelli può anche banalmente essere del fatto di prestare attenzione anche se ci può sembrare come dire incomprensibile quello che ci sta dicendo quello che ci sta trasmettendo l'altra persona ma anche solo il fatto di prestare attenzione rispecchiare in modo accurato quello che ci viene detto quindi in qualche modo essere curiosi e se questo lo permette in qualche modo anche comprendere e dare valore all'esperienza emotiva che probabilmente per noi è qualcosa di irrisorio perché magari immaginate ci porta a una grossa frustrazione a fronte di un evento che dal nostro punto di vista non è così non è così rilevante tuttavia come dire la validazione ci permette invece appunto di dare valore di dare valore e di dare eventualmente se il familiare come se riusciamo a comprendere bene quello che gli sta succedendo anche di aiutarlo a comprendere causa-effetto tra quello che è successo e l'emozione che sta provando e quindi i comportamenti eventualmente che ha messo in atto e così come come dire conoscendo bene il familiare la propria storia possiamo anche validarlo sulla base del passato quindi sulla base delle esperienze passate se ci sono state o sulla base anche del presente con l'idea di normalizzare quello che sta succedendo e quindi come dire è appunto comprendere in quel momento che quell'emozione è normale che la capisco capisco che ti ha fatto stare molto male questa cosa che è successa capisco che per te essere criticato sul posto di lavoro è qualcosa di estremamente doloroso e quindi è come dire quando dicevamo è il modo in cui creiamo una comunicazione apriamo una comunicazione con chi in quel momento sperimenta una forte sofferenza e possiamo validare tante cose possiamo validare appunto le emozioni possiamo anche validare il desiderio di qualcosa cioè nel momento in cui ci viene riportato un desiderio la voglia di trovare il lavoro dei propri sogni possiamo in qualche modo riconoscere quanto sia importante che abbia questo desiderio così come possiamo validare le difficoltà o gli sforzi per raggiungere un obiettivo le difficoltà che l'impegno che viene messo per svolgere un compito o per raggiungere un proprio obiettivo così come tutte le azioni efficaci che compiono verso se stessi o verso gli altri quindi dare valore e dare importanza a tutto quello che appunto fa parte della sfera emotiva cognitiva e alcune volte anche comportamentale di chi in qualche modo ha sofferenza e fatica a regolare le proprie emozioni proprio nell'idea di cominciare ad avere un linguaggio comune cioè di cominciare a sgrettolare quel senso di isolamento sgrettolare quel senso di non sentirsi capiti perché la validazione è un po' come dire io ti capisco cioè so quello che stai provando non perché io lo provo ugualmente però ha senso quello che tu stai provando quindi permette anche veramente alla persona di dare valore prima di tutto quindi di non autoinvalidarsi e anche di come dire cominciare a pensare di poter dare un nome a questa cosa identificarlo definirlo comprenderlo e migliorare quindi intanto il senso di autoefficacia sempre nell'area dell'accettazione quindi nella prima modalità insomma la parte dialettica rispetto all'accettazione nel gruppo parliamo anche delle abilità di mindfulness per chi non la conosce la mindfulness appunto cioè mindfulness significa concentrarsi sul momento presente prestare attenzione all'esperienza nel qui ed ora quindi è come dire imparare ad osservare senza giudicare abilità chiaramente estremamente difficile quando magari abbiamo di fronte un familiare o un conoscente che mette in atto comportamenti francamente pericolosi o discutibili però come dire l'idea è di provare a sperimentare un approccio non giudicante ma da osservatore quindi cercare di capire cosa sta succedendo più che attribuire un significato negativo e quindi quello che proviamo a fare insomma quanto meno con i familiari al di là di sperimentare anche questa abilità di cominciare a riconoscere quelli che sono nella mindfulness e in questo protocollo della dbt i tre stati della mente quindi la mente emotiva la mente razionale e la cosiddetta mente saggia che è la mente che in qualche modo integra gli aspetti emotivi disregolati con la parte più fredda logica e razionale e li metti insieme proprio perché si sciolga questo costante oscillazione tra ipercontrollo e discontrollo o su tutti gli aspetti di come abbiamo visto impulsività l'abilità emotiva eccetera e competenza apparente altrimenti costantemente la persona si trova a muoversi in questi due estremi in un modo come dire costantemente rimbalzato tra la mente saggia la mente razionale e la mente emotiva quindi l'idea che i propri familiari i familiari possano in qualche modo comprendere meglio riconoscere quando il proprio familiare è in mente emotiva quindi in cui l'acceleratore emotivo è al massimo e aiutarlo a passare lentamente nella mente saggia quindi in modo efficace quindi integrando o aiutandolo in un momento in cui probabilmente da solo fa fatica perché è in preda a questo sperimento a questa sensazione di essere in preda alle proprie emozioni quindi accettazione radicale validazione e mindfulness come abilità per appunto nell'area dell'accettazione in generale per l'area del cambiamento invece quello che viene come dire anche all'interno del gruppo dei familiari discusso ecco di cui si di cui si parla di cui si cerca di in qualche modo di trasmettere sono anche le abilità appunto di cambiamento abilità di cambiamento legate alla regolazione emotiva all'efficacia interpersonale alla tolleranza della sofferenza nel senso che chiaramente la validazione da sola non basta cioè noi possiamo anche capire la sofferenza ma poi detto questo stiamo lì comprendiamo siamo compassionevoli accettiamo però non stiamo facendo altro che non insomma stare lì con bene non siamo più invalidanti siamo supportivi ma possiamo fare possiamo come dire aiutare ad andare verso il cambiamento per cui vengono insegnate importanti tecniche per il cambiamento del comportamento che si basano proprio su principi di modellamento proprio un insegnamento diretto ci sono un sacco di schede che riprendiamo anche con i familiari e anche come dire anche nell'idea del rinforzo di essere capaci nel momento in cui il proprio familiare come dire mette in atto un comportamento finalizzato a raggiungere un obiettivo e raggiunge un piccolo obiettivo seppur piccolo però nella tendenza a rinforzarlo proprio come per il potere che ha questo tipo di intervento e in generale lo scopo dell'abilità appunto della terapia dialettico comportamentale consiste proprio nel cambiare gli schemi comportamentali che come dicevamo prima sono contraddistinti da un modo rigido di pensare quindi attraverso l'acquisizione di queste abilità si vengono ad indebolire questi schemi rigidi del tutto bianco e tutto nero e quindi attraverso l'apprendimento la ripetizione e l'applicazione delle abilità della DBT è possibile creare nuovi percorsi neurologici in correlazione con le aree del cervello che sono interessate appunto alla regolazione delle emozioni facendo in modo che la persona cambi i comportamenti e possa superare le difficoltà quindi lo scopo è per quello che riguarda il familiare di fronte a queste situazioni riconoscere la carenza delle abilità del proprio familiare e aiutarlo a utilizzare i metodi della DBT per risolvere i problemi e raggiungere gli obiettivi quindi potendo veramente trasformarsi insomma dopo una prima fase di appunto supporto accettazione anche in un familiare con qualche modo funzioni terapeutiche l'essere realmente è un po' un sostituto di quello che può essere un terapeuta ugualmente nell'efficacia interpersonale vengono un po' indicate una serie di caratteristiche e vengono trattati temi specifici per aumentare la capacità di definire i propri obiettivi di sviluppare l'assertività di nutrire le relazioni cercare di costruire nuove relazioni chiudere eventualmente quelle che sono pericolose che risultano dannose e in qualche modo di equilibrare priorità e richieste voleri e poteri perché spesso come dire anche in questo se c'è un disequilibrio tra doveri e piaceri spesso si determina come dire un accumulo da un punto di vista della regolazione dell'emozione quindi più facilmente si passa si mantiene sempre l'aspetto che dicevamo prima dell'ipercontrollo e il discontrollo così come anche la capacità di accettare gli errori e da un punto di vista del familiare anche di poter comprendere quanto posso chiedere quanto invece mi devo fermare quindi quanto in questo senso equilibrare anche priorità priorità e richieste nelle abilità di regolazione è chiaro che sono tutte legate a di tolleranza alla sofferenza sono tutte abilità che sono volte e descritte anche nel gruppo dei familiari per gestire e regolare le emozioni e appunto cavarsela in situazioni emotivamente difficili o di crisi con lo scopo quantomeno di non peggiorare la situazione in quanto essendo di crisi l'importante in quel momento quantomeno è restare a galla e non peggiorare in ultimo la mentalizzazione come dicevamo prima proprio l'idea ha proprio questo scopo di comprendere i fraintendimenti quindi per il familiare diventa importante imparare a comprendere i fraintendimenti in ambito relazionale no? quindi cercando il più possibile di comprendere no? la rappresentazione mentale dall'altro mettersi nei panni dell'altro che in questi casi non è per niente facile proprio per quello che si diceva prima perché quello che ci mostrano molto spesso è un comportamento francamente illogico o inaccettabile in certi casi quindi non è facile questa operazione diventa però come dire importante proprio come bagaglio e lo sforzo di provare a capire no? cosa sta succedendo nella mente del proprio familiare quali sono i pensieri quali sono le emozioni sia per appunto come modo anche per sentirci un pochino più competenti e capaci di capire cosa sta succedendo e non in balia no? delle emozioni dell'altro e dei comportamenti dell'altro sia anche perché se ce la sentiamo in qualche modo possiamo anche aiutarlo in un momento in cui probabilmente da solo non ce la fa quindi a determinare questa insomma anche delle connessioni come di cause ed effetto di quello che sta succedendo e quindi aiutandolo appunto ad acquisire questa abilità di autoosservazione di automonitoraggio riconoscimento dei propri stati emotivi e quindi poi gestioni alternative no? su cui si va di cui si va poi a a discutere ok direi Alessandra che mi fermo qua vuoi che guardiamo le domande su questo pezzo prima facciamo tutto come preferisci sei muta non ti sento scusate forse lasciamo alla fine così magari diamo modo abbiamo più spazio senza che mi riprendo appunto da quanto ha detto la dottoressa nel collegare diciamo il definire perché abbiamo strutturato questo nostro centro questo nostro percorso noi ovviamente all'interno dei studi cognitivi abbiamo strutturato questo percorso intensivo dove c'è proprio un momento specifico solo per i familiari di questi pazienti all'interno del percorso ma quello che abbiamo che facciamo è anche inserire no? prima anche degli stessi pazienti che non sempre hanno subito una buona motivazione un buon impegno a intraprendere anche un percorso intensivo come lo proponiamo o ancora non hanno ben consapevolezza delle loro problematiche molto spesso il nostro percorso viene iniziato per prima dai familiari e quindi diciamo iniziano loro con un momento di gruppo appunto che viene strutturato in particolare il diciamo venerdì di due ore in cui vengono affrontate tutti gli aspetti che prima sono stati esposti appunto dalla dottoressa Gemelli e questo perché appunto proprio perché a volte è lo stesso familiare che acquisendo consapevolezza acquisendo un po' il il senso il funzionamento le varie aspetti appunto appena descritti diventa una sorta di aiuto a far sì che anche la persona sia stimolata a prendere atto delle proprie problematiche appunto e in realtà poi diciamo che il percorso migliore è quando c'è sia il familiare che segue il suo percorso e poi anche la persona stessa che inizia ad affrontarlo e ci siamo incentrati diciamo su questo aspetto su questa problematica di desregolazione emotiva quindi su quelli che vengono definiti diciamo i disturbi della personalità che trasversalmente al di là dell'etichetta della diagnosi psichiatrica specifica molto spesso appunto in forma intensità diversa hanno come elemento dimensionale proprio centrale questa disregolazione emotiva e diciamo che è un aspetto molto diffuso nella popolazione sono disturbi diciamo molto persistenti che vanno ad impattare in maniera forte proprio sul funzionamento generale della persona sulle problematiche su problemi familiari ma relazionali in genere no? e su problematiche lavorative su problematiche scolastiche di proprio mantenere un obiettivo del raggiungerlo dell'essere costanti in questo impegno e diciamo nel nostro percorso appunto il nostro progetto all'interno delle cliniche italiane di psicoterapia diciamo seguiamo un po' sia quelle che sono le linee guida che sono state strutturate dalla regione Emilia Romagna no? proprio come anche come servizio territoriale e facciamo riferimento poi a quelle che sono le linee guida dell'America Psychology Association che hanno appunto e ha diciamo quei protocolli di intervento e di cura di disturbi di personalità che hanno dato al momento della territoria scientifica più evidenze appunto di efficacia per questo trattamento e quindi il nostro diciamo intervento è un intervento appunto multidimensionale nel senso che proponiamo un intervento di gruppo fondamentalmente dove il paziente le persone i pazienti svolgono giornalmente due attività di gruppo della durata di due ore ciascuna hanno una breve pausa tra l'una e l'altra e questi interventi appunto di gruppo vengono anche diciamo caratterizzati insomma da un intervento più di apprendimento di intervento per quanto riguarda l'acquisizione e la conoscenza di abilità e un aspetto fondamentale che è la messa in pratica l'esercizio proprio il potenziare familiare e familiarizzare con nuove modalità nuovi appunto approcci alle proprie emozioni nuovi comportamenti stessa cosa appunto vanno a fare i familiari appunto e i modelli appunto che un po' aveva già accennati la dottoressa appunto sono quelli che come dicevo prima sono maggiormente riconosciuti come livello di efficacia internazionale e quindi quello a cui facciamo fondamentalmente molto riferimento al modello della terapia dialettico comportamentale che è quello che è stato il primo ad essere riconosciuto come efficace per il trattamento appunto di questi disturbi che ha avuto prove di efficacia nel tempo al di là del da quando è nato insomma e quindi proponiamo sia questo modello per quanto riguarda i pazienti che tre volte alla settimana seguono le tematiche di questo della terapia dialettico comportamentale che riprendiamo appunto lo stesso con la dbt family skill training in associazione anche al multi family group di Ganderson appunto come linee guida e modelli di riferimento per strutturare proprio i vari i dodici incontri che proponiamo di due ore appunto ai familiari l'altro modello di riferimento con cui viene strutturata tutta una giornata di gruppo diviso nella parte più diciamo passatevi i termini più teorica più di comprensione di questo funzionamento e poi nella parte pratica per quanto riguarda la terapia metacognitiva di WERS e in maniera particolare quella di Nordal per quanto riguarda gli aspetti proprio gruppali quindi interventi mirati proprio ad avere ad acquisire consapevolezza per quanto riguarda il riconoscimento di quei processi mentali come la ruminazione per quanto riguarda il ripetere ciò che diciamo un rianalizzare cosa è successo nel passato o nel futuro per quanto riguarda maggiormente questi pensieri ripetitivi astratti sul futuro e trovare diciamo delle modalità diverse di reazione perché anche l'immugino e la ruminazione vengono viste diciamo come elementi di gestione dei propri stati emotivi ma che in realtà vanno a potenziare e a aumentare diciamo il problema della disregolazione emotiva quindi questi sono i tre elementi che abbiamo i tre modelli scusate teorici che prendiamo come riferimento e perché il modello della terapia dialettico comportamentale proprio nell'idea di aiutare i pazienti a ridurre quell'area di vulnerabilità emotiva per aiutarli nell'imparare ad osservare meglio e a capire a dare un senso a validare i propri stati emotivi e quindi di riuscire ad acquisire abilità per meglio rapportarsi per meglio leggere per meglio interpretare i loro stati emotivi e quindi poi di conseguenza per pianificare dei comportamenti più efficaci nella risoluzione nella modulazione di stati emotivi più tollerabili e in particolare proprio le aree che vengono trattate all'interno del modello della DBT sono appunto le abilità di mindfulness quindi di osservazione di imparare a tollerare a stare di acquisire un atteggiamento non più fobico verso i propri stati emotivi e questo è un momento che viene considerato in tutto il percorso intensivo due o tre mesi come un momento costante in tutte le settimane e poi invece per quanto riguarda mensilmente alterniamo quelle che sono le aree centrali in cui si sviluppa la desirregolazione emotiva quindi imparare a tollerare la sofferenza nel senso di non agire costantemente in maniera impulsiva quindi imparare ad osservare a modulare a prendere consapevolezza anche di un momento di crisi di un momento di impulsività e agire in una maniera differente più funzionale un altro mese ci concentriamo maggiormente su quelle che sono il riconoscimento dare un nome definirlo e capire come regolare i propri stati emotivi e l'ultimo mese ci concentriamo proprio sul migliorare le abilità di relazione interpersonale su come imparare a dire dei no imparare a modulare le richieste e imparare diciamo a risolvere un po' le sensazioni di conflitto interpersonali questo per quanto riguarda la DBT per quanto riguarda invece gli obiettivi dell'MCT è proprio quello come diciamo prima di andare ad introdurre delle strategie diverse rispetto a un rimuginio che quindi mi aumenta soprattutto l'aspetto ansioso e l'aspetto della ruminazione che va ad aumentare soprattutto la dimensione della tristezza e della rabbiosità quindi aumentare prima di tutto la consapevolezza dell'accorgersi di quando iniziano questi processi e riuscire quindi a distinguerli da un normale modo di riflettere e analizzare la situazione e poi acquisire diciamo delle modalità diverse per non continuare appunto e scegliere di smettere di rimuginare o ruminare e quindi avere un effetto positivo sui propri stati emotivi per quanto riguarda il multifamily gruppo invece proprio è quello di dare spazio di intervento su appunto l'aspetto più di un ambiente invalidante proprio per far sì che ci sia anche un intervento proprio psicoeducativo su tutte queste parti anche per i familiari volti a far sì che ci sia una maggior comprensione una maggior validazione verso il migliorare quindi verso un cambiamento di risposta e rompere diciamo i soliti schemi che poi in maniera ciclica diciamo vengono mantenuti e neanche ce ne accorge più che stiamo mantenendo i soliti schemi ma che mantengono diciamo la disfunzione nella difficoltà del comunicare e quindi il nostro percorso diciamo è fa riferimento cioè si utilizza diciamo adesso cinque psicoterapeuti e due terapisti appunto della riabilitazione e poi nell'eventualità ci fosse necessità abbiamo anche la possibilità di fare un consulto con un psichiatra lì dentro e noi collaboriamo in strettissimo diciamo contatto con terapeuti o qualsiasi tipo di medico o figura diciamo di riferimento che magari segue il paziente e diciamo lo invia da noi solo per fare questo pezzettino ma in tutto il percorso anche dopo per definire diciamo gli step successivi settimanalmente diciamo ci coordiniamo appunto con il referente esterno quando c'è ovviamente se invece il paziente diciamo non ha riferimenti esterni ovviamente lo prendiamo abbiamo la possibilità di prenderlo in carico totalmente all'interno del nostro gruppo quindi le persone che vogliono accedere al nostro percorso possono farlo sia di iniziativa proprio personale o perché inviati diciamo sul consiglio di un professionista quindi di un medico generico o di uno psichiatra o di un altro psicologo e abbiamo abbiamo cura di incontrare nella strutturare il percorso più adeguato appunto sia il paziente insieme anche al suo medico appunto di riferimento appunto insieme ai familiari in modo da spiegare tutto il razionale il perché di questo impegno che richiediamo proprio e faremo diciamo dei momenti anche di diciamo verifica tra virgolette all'interno del percorso sia per evidenziare se ci sono delle particolari difficoltà ma anche per andare a vedere proprio in che direzione stiamo andando anche per aggiustare diciamo nei successivi percorsi quindi noi facciamo inizialmente dopo l'invio un colloquio appunto preliminare con la persona quando è necessario appunto e ci spingiamo molto a farlo anche con i familiari essendo anche parte fondamentale importante poi la persona fa una valutazione testistica al quale diciamo diamo una restituzione anche cartacea insomma la persona ha in mano diciamo quanto è emerso dalla valutazione sulla quale andiamo a strutturare proprio un progetto terapeutico con obiettivi che vengono condivisi e poi diciamo inviamo questa relazione anche al terapeuto esterno pienamente in accordo in fiducia insomma e lo rivediamo nel tempo il colloquio finale dei tre mesi si va a valutare anche facendo poi anche dei test sia iniziali oltre a quelli della valutazione che alla fine proprio per andare a vedere i miglioramenti delle aree che abbiamo trattato alla fine dei tre mesi quello che proponiamo è diciamo una continuazione di una forma più soft diciamo del percorso di uno o due pomeriggi solo di due ore in cui la persona può venire non a ripetere tutta la parte tra virgolette teorica ma a continuare diciamo l'esercizio delle nuove abilità fatte proprio perché il mantenimento e il generalizzare alcune abilità è fondamentale per far sì che diventino più automatiche proprie o meno come vedete questo è un po' il piano delle nostre attività settimanali quindi vanno dal giovedì al venerdì ma la parte più intensiva è dal giovedì al mercoledì dalle 13.30 alle 18 e come potete vedere appunto la prima parte 13.30 15.30 sono gruppi condotti da psicoterapeuti e quindi due volte alla settimana io e la dottoressa Gemelli conduciamo i gruppi appunto sulla terapia dialettico comportamentale c'è un momento settimanale che è costante per quanto riguarda il gruppo della mindfulness un gruppo appunto sulla ruminazione rimuginio e poi c'è il venerdì il momento dei colloqui individuali che poi possiamo anche decidere di fare nel corso della settimana per non far venire diciamo una volta in più la persona oppure se preferisce venire anche il venerdì lo strutturiamo in quel momento poi c'è un momento appunto di pausa diciamo e poi dalle 16 alle 18 le due tecniche della rehabilitazione che lavorano con noi mettono in atto questo pezzo fondamentale per noi proprio l'idea dell'esercitarli il fare tante prove di quello che hanno tra virgolette discusso con noi appreso con noi le due ore precedenti e poi il venerdì c'è dalle 16 alle 18 il gruppo solo unicamente appunto dei familiari e quindi il gruppo settimanale multifamiliare ha quindi lo scopo proprio come diceva la dottoressa di aiutare appunto i familiari ad acquisire sempre più conoscenza e strumenti che possono promuovere una maggior validazione un maggior riconoscimento di qual è il problema e una maggior forma di comunicazione in una maniera che non alimentiamo diciamo che non mettiamo benzina sul fuoco quando andiamo a comunicare o dover affrontare situazioni di carico emotivo e quindi una nuova comprensione conoscenze strumenti aumentano sicuramente una maggior forma di supporto e anche un maggior diciamo diminuzione del carico emotivo quindi diamo informazioni sicuramente circa la diagnosi le caratteristiche di come si struttura evolvere e possono essere varie forme del problema di indicare quali possono essere i comportamenti da adottare nei momenti più di alta crisi diciamo dei pazienti e insegnare poi con potenze diciamo specifiche di fronte proprio a come meglio comunicare legate anche a momenti per quanto riguarda la gestione soprattutto della rabbia o gestione dei comportamenti altamente impulsivi come keep noi poi ci fermiamo ogni settimana per rivalutare come è andata la settimana e come rimpostare riaggiustare magari il tiro della settimana successiva mantenendo le linee guida diciamo e gli elementi che dobbiamo affrontare e anche mensilmente facciamo delle supervisioni con dei nostri responsabili diciamo di studi cognitivi formati ovviamente su questo per avere anche un occhio esterno su di noi su come stiamo andando su come stiamo procedendo vi lasciamo appunto i contatti per qualsiasi informazione o interesse o per collaborazioni o proprio per interessi personali per poter appunto diciamo approfondire qualsiasi tipo appunto di informazione richiesta che avete noi avremmo finito quindi lasciamo spazio un po' a se ci sono considerazioni interventi di qualsiasi tipo domande particolari insomma ma io ho visto Alessandra c'è la ma quando non esplicitano le loro difficoltà come si fa a mettersi in contatto con esse perché non sempre questi soggetti ammettono di avere problemi in effetti un po' per quello che si diceva prima è molto vero e questo è sicuramente l'aspetto più più difficile allora sicuramente un po' quello che dicevamo prima è che la cosa più difficile molto probabilmente è cambiare modalità perché quindi approcciarci come se di fronte appunto non abbiamo un problema solo del comportamento quindi un comportamento maleducato un comportamento sbagliato quindi un comportamento che in qualche modo facilmente può essere giudicato negativamente ma in questo insomma è una delle prime cose che insegniamo sicuramente ai pazienti ma anche ai familiari è cominciare a cambiare il modo di approcciarsi a questo tipo di difficoltà quindi a comprendere come alla fine il comportamento è un tentativo di gestione di stati emotivi difficili e anche il fatto di avere di fronte appunto una persona probabilmente che non ha la più palida idea di cosa gli succede in quel momento nel senso che sa benissimo cosa è giusto e cosa è sbagliato ma non sa dirci che cos'è questa emozione che sente oppure la vive profondamente come qualcosa di pericolosa e di cui se ne vuole liberare e non invece come quello che può essere un segnale del proprio disagio e proprio per questo come problematica fa fatica a trasmetterla agli altri quindi diciamo che è un po' voi come familiari ma anche noi come terapeuti è chiaro che noi a un certo punto se ce li troviamo di fronte un pochino vuol già dire che forse un po' di consapevolezza è stata presa però sicuramente avere questo tipo di approccio ci aiuta anche a fare le domande giuste in quel momento che appunto non è tanto perché hai fatto quello che non è una risposta a cui spesso ci possono rispondere ma come rispetto a come ti senti cominciare in qualche modo ad aiutare anche loro a farli comprendere che loro non è e nel non giudicarli anche loro possono non giudicarsi perché è l'estremo giudizio che li porta a chiudersi su loro stessi perché spesso sentono di aver qualcosa di sbagliato che vivono come qualcosa di sbagliato in più mettono in atto effettivamente comportamenti problematici e quindi un po' c'è questa confusione e quindi è difficile se io penso di essere sbagliato o sbagliata aprirmi con qualcuno e parlare di questa cosa quindi prima di tutto come dire è quello che cerchiamo di fare anche noi come terapeuti ma che proviamo anche un po' trasmettere ai familiari è appunto attraverso l'abilità che abbiamo visto partire da un'accettazione quindi non giudicante di quello che vediamo e cercare di comprendere quanto questo sia una risposta a un problema emotivo in quanto risposta a un problema emotivo però è importante che ci sia e cominciamo a dargli valore a questa cosa concentrarci maggiormente sulla sofferenza e non sul comportamento poi è chiaro che non possiamo permettere e validare certi comportamenti non è questo il punto però abbiamo visto io posso comunque validare un'emozione e non riconoscere come opportuno valido un comportamento e già questa modalità aiuta il paziente a distinguere le due cose perché è una difficoltà che loro hanno cioè loro hanno l'evento e il comportamento non c'è in mezzo l'idea che c'è stato un pensiero una valutazione che loro hanno fatto e che il suo pensiero gli ha fatto avere un'emozione e poi hanno messo in atto un comportamento disregolato e quindi già nel momento in cui riusciamo anche noi a fare un certo tipo di domande ad approcciarci in modo diverso gli aiutiamo anche a cominciare a leggersi in modo diverso ad auto monitorarsi in modo diverso e poi è chiaro che sì non sempre è facile ecco non sempre è facile però come dire dobbiamo insieme a quello che dicevo prima secondo me l'altra cosa importante è considerarle come persone che soffrono questo serve anche a noi per appunto mantenere una modalità non giudicante e riuscire ad avvicinarci in un modo che può risultare effettivamente più efficace e all'apertura e alla comprensione più facilmente anche l'altro può aprirsi poi è chiaro che anche loro possono avere comprensione di questo ma non volerlo fare non voler cambiare devono prendersi tempo per cui sicuramente non è facile ecco quando non è facile ma è proprio per quello diventa un problema di fraintendimento quindi migliorare questi aspetti migliorare la comunicazione questo ci permette anche momenti in cui i familiari arrivano prima dei pazienti poi l'aggancio successivo anche perché da un certo punto di vista anche qui arriva già un messaggio diverso questo ce l'hanno riferito anche i nostri pazienti nel momento in cui arrivano prima i familiari già un po' si esce dall'idea che il problema sia lui cioè che sia qualcosa di sbagliato cioè sei tu che devi andare a farti curare di nuovo la parte del giudizio loro sono terribili con loro stessi dal punto di vista del giudizio molto di più di quanto non lo possiamo essere noi stremati dai loro comportamenti dalle loro come dire provocazioni eccetera loro sono molto più giudicanti nei loro confronti però come dire preferiscono dirsi che è colpa degli altri di responsabilizzarsi ma perché non sono capaci di vedere l'alternativa e quello è quello che dobbiamo fargli vedere noi anche nell'idea di motivarli e in questo devo dire la verità spesso quello che succede è che anche la semplice diagnosi con la definizione per ragazzi molto giovani che abbiamo avuto ha permesso di rompere un po' questo sistema perché nel momento in cui io già do un nome a quello che mi succede e nel momento in cui ho un nome anche se ho una diagnosi ho un trattamento già questo ci aiuta questo succede a tutti anche in termini di salute siamo peggio quando stiamo male ma non sappiamo cosa abbiamo che non anche delle volte quando ci viene fatta una diagnosi se vogliamo non proprio positiva però poi abbiamo un trattamento perché il fatto di non sapere cosa loro succede è veramente il pezzo maggiormente presente non so cosa mi succede e lo ritengo sbagliato quindi è il caos è il caos che poi trasmettono anche nelle relazioni trasmettono nei loro comportamenti eccetera c'è una domanda come possono fare i familiari che non sono lo familiare principale ad aiutare questi pazienti eh difficilissimo dipende da che tipo di rapporto e di coinvolgimento chiaramente c'è poi anche nei nostri gruppi noi lasciamo anche la possibilità allo stesso paziente no di oltre magari ai familiari stretti se hanno persone che loro evidenziano come significative che possono essere un compagno appunto un'azienda a poter anche entrare nel percorso proprio perché cioè più conosciamo diciamo più persone hanno più strumenti e più come dire battiamo tutti nella stessa direzione no quindi è un aiuto poi quello che diceva prima la dottoressa sull'aspetto del non giudizio dell'andare diciamo più a fargli capire cioè l'aspetto emotivo questo come dire lo possiamo fare anche se non siamo i familiari diretti è già un modo diverso di rapportarsi di non metterli alle strette sul comportamento ma di ampliare la discussione anche l'interesse la curiosità non subito l'etichettarlo come non vuoi cambiare o sbagli sempre o sei manipolatorio eccetera eccetera di altri vali giudizi insomma direi questo se non ci sono altre domande vi salutiamo vi ringraziamo grazie buona serata a tutti buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.